Io direi che è una sentenza incredibile che ha voluto colpire profondamente Berlusconi. Certamente io non faccio, Lega Nord non fa da avvocato difensore, però questa è una giustizia che va assolutamente riformata. Io penso che la giustizia non deve entrare nella politica e nelle cose del Paese. Invece sentenze di questo tipo possono condizionare in maniera pesante l'azione del Governo, soprattutto in un momento come questo, perché anche noi siamo all'opposizione, però vogliamo che lo spostamento dell'IVA venga fatto, che l'IMO venga cancellata. Se poi il Governo viene minato da sentenze di questo tipo, io penso che sarà molto difficile andare avanti.